Tra meno di 24 ore giurerà e tornerà assessore nella giunta d'Anna a Giarre, Piero Mangano. Un mese e quattro giorni dopo si chiude dunque la crisi politica natalizia giarrese. E volge al termine un mese tormentato per Angelo Danna, culminato lunedì con l'approvazione dell'atto di indirizzo sullo stadio da parte dell'opposizione su proposta di Giannunzio Musumeci. Un atto politico che ha visto apertamente soccombere l'amministrazione in consiglio comunale, ma che comunque non ha scalfito l'accordo per il ritorno nell'esecutivo di Mangano. Anche se il tema dello stadio, come si è visto lunedì, resta estremamente sentito e ha diviso la stessa maggioranza. Seduta di lunedì che adesso ha creato una netta frattura tra i due gruppi consigliari di maggioranza, città viva e già reviva, e il presidente del consiglio comunale, Francesco Longo. Difficile da capire quando e come questa cesura potrà essere ripristinata. Per il sindaco, Angelo Danna, in questo momento un'eventuale sfiducia non è all'ordine del giorno, anche perché non ci sarebbero i numeri, considerato che in questo momento tutta l'opposizione ha apprezzato il voto favorevole del presidente del consiglio all'atto di indirizzo di Giannunzio Musumeci. In questa fase, Angelo Danna vorrebbe invece dare maggiore impulso all'azione amministrativa su temi chiave come manutenzioni e pianta organica. In questo senso, il rientro di Mangano appare un segnale chiaro. Il primo cittadino ai suoi, dopo lunedì sera, avrebbe chiesto di mettere da parte le polemiche.